e' tempo di porto al 2 con snake ciao a tutti vedo che c'è quello non ti buttare magari poter andare più maio non è vero forse non serve ok so ma non so non so che il ciclo e per questo dovremo buttare simon e p il cordone appunto un beliale non vale io cosa ne sapevo anche mentre quando mi seguo metete da testa cittadino l'alto sono soccorato anche per tecnici avrebbe tipo io lo schiacciare tu devi andare avanti e poi da lì dovrei bloccare non vediamo oltre questo vedendo se c'è qualcos'altro a fare se la merda per città problem minchia coglioni stato non c'è portare il don coramente tra l'altro o o ok vai ti sconsiglio di farlo che vuole anche tu cosa vai su ok aspetta fammi arrivare là non buttarti nel porca ok c'è qualcosa da premere eh no fermo 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 no ho sentito interruttore attivato ah c'è qualcosa ho capito io cosa di fare eh attiva il portale lì eh un attimo dovevo tornarci ma io non lo potevo sapere questo perché non ero eh 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 dai muoviti eh dai muoviti potrei ucciderti adesso facendoti così riesco di attivarlo si ma andiamo no no era divertente era divertente un'attività un'attività giusto che mi hai muoviti io non sarei che invece negli altri video qui sembrate più depressi si è vero abbiamo avuto la porta giornata si perchè non abbiamo ancora in cui fino a me abbiamo vinto una mancina si appunto può secoli secoli ok momento di tornare a leggeri felici e uccide la snake buon intanto che qua si salutare le cazzate varie e vado a prendermi da mangiare perché ho fatto ok team bimbrillo c'è lui va bene a mangiare mentre registriamo non può aspettare nooo no intanto intanto facciamo pubblicità damigad fai 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 ferire i sentimenti blu non serviva bene a me e a te ma che vabbè ma probabilmente è grado si mi ha detto devi mandare a fare il culo blu che non mi serve a niente mandro al diavolo rieccovi ok tu sei morto andrei devi mandarcelo blu è successo proprio come avevi previsto e io che cosa c'entro io che sono fermo allora a grattarmelo allora cosa vuoi dire se premo questo allora se premi quello si aprirà che cazzo che cosa ecco l'altro idiota ma non l'avevo visto ma è proprio la giornata blu è stato abbastanza sciocco da cascarci nella tua trappola la smettilo è più in alto andrea ah ok perché pensavo di arrivarci no ok così va bene vai di là esatto è troppo divertente aver attivato no so per baglia guarda il tuo tasto una palla mi devi lanciare per caso devi aprirmi qua è già aperto c'è un buco lì grandissimo e io passo di qua tutta palla dovevo portare dove? da sopra già capito io più o meno all'incirca forse quella palla aspetta levati ma io ho capito di fare arrivare la palla se la palla come dovrei far arrivare sto guardando ah capito ma più o meno alice mi devi rifar saltare anda devo ritornare alla palla come tra le buttono sopra lasciali la palla eh devi far rottuando perchè se vai salti sai tu un attimo dove il tuo salto che te la palla anche se ne va da fa culo anche se ne per te ne avrò tutto pulsante con il numero ok la ferma no 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 tranquilla tanto la prendo eh non la devi prendere appunto ah ok capisci cosa voglio fare capisci ma ah ma va dall'altra parte fuori ma però aspetta ho capito come devo fare perchè non farei anche i portali eh no 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 andrei lì sinistro metti un portale dove c'è la palla ora eh cacchio ma tu non puoi scendere vero senza la romper aspetta non li and che cos'era non lo so hai fatto la minchietta più grande che potevi fare ce ne siamo quasi andrei io l'ho capito più o meno fai una cosa andrei vieni da me che lo sai perfetto adesso metti uno la e poi uno la per farmi faltare vada vai e fa un culo ok più a destra andrò devi mettere più a destra più a destra se no io muoio più a de alla mia a destra andrò alla mia a destra allora a sinistra vabbè la tua è la sinistra per me è la de vicini ti minchia guarda dove va il raggio no ok ora mettilo dove l'ho messo dall'altra parte aspetta anzi ora mettilo la si ho capito dove ok così perché pena riesco a uscire aspetta aspetta ehm lì c'è qualcosa dove mandarlo ma per quanto perchè da qua non posso sparare praticamente sono incastrato neanche quando vuoi sparare è quel muro la eh no perchè c'è questo qua davanti mi devi aprire qua e da qui dove non posso sparare da forse ho capito così cos'è risolto aspetta niente così passata verso lì e si rompe infatti ma cazzo faccio perchè devo tornare poi qua sopra devo tornare indietro tornando indietro non lo so fammi pensare un secondo perchè vedi che là dietro c'è solo là dietro esatto però ci vuole il raggio per farlo bloccare là e quindi forse un'idea 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 beh l'inizio per forza è così penso oppure guarda cosa c'è la peta 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 fammi un attimo saltare a me guarda cosa c'è la comunque guarda saltare fammi farai fare una cosa ok fammi parare a fare una cosetta aprimi il portellone l'unica possibilità io posso sparare là quindi è la ok più difficile di quello che sembra e invece allora è complesso davanti ai vostri occhi ok fin là ci siamo arrivati che lì arriva uno e poi ho capito vai lì forse ho capito vai salto aspetta un attimo ma se è la roba più intelligente da fare salta un attimo sopra vai un attimo su eh volevo provare a entrare da lì capito eh però non ci arriva ah ho capito hai capito cosa devi fare vero più o meno ho capito perché se io no no fermo guarda è quello che stavo facendo io Andrea è la stessa cosa si ma se hai smettito io il mio portellone quando lo metto vabbè l'ho comprato io vabbè è la stessa cosa che stavo facendo io Andrea ok fermo dobbiamo tornare lì eh farmi le cose per saltare Andrea per farmi passare la no la la ci dovrà passare il terreno adesso fallo dall'altra parte come prima Andrea io ora scendo ne metto uno la io ne ho l'altra parte esattamente chi è da lì sac dunque Andrea è la stessa cosa che stavo facendo io si ma abbiamo una collaborazione che fa schifo io lo metto da una parte e tu lo metti dall'altra esatto ok dopo questo non mi interrompere perché è stato abbastanza lungo avvocato avvocato 40 ok vabbè adesso vediamo smontati tu col cazzo in culo adesso vediamo un po' come è composta l'atlas da una pokeball con dentro pikachu non è vero la mappa si chiamerà è più lungo il nome tbm catch grid 1 eh beh tipa lì arancio blu io stavamo proprio parlando di tuo comportamento nel costo di ultimità cosa ho fatto di male perchè sei andato a 5 punti lol cos'hai detto bo voglio fare in culo ok ragazzi alla prossima parte bye bye vai ci l'hanno con voi